Musica Arriva in consiglio di stato la direttica sul trasferimento della sede del comune capofila del servizio sociale ambito 7 della provincia di Salerno. Dalla sua istituzione nella prima metà del 2000, sede logistica e comune capofila è stato Castellabate. Lo scorso 27 dicembre, nel corso di una sessione del consiglio d'ambito, l'organo politico sovraccomunale, il comune di Vallo della Lucania pone la questione del capofila e una mozione con la quale viene di fatto votato un nuovo comune e una nuova sede, di cui l'impugnazione dell'atto innanzi al tribunale amministrativo regionale della Campania da parte del comune di Castellabate. Il problema non afferirebbe alla sola legittimità della votazione, ma alla procedura per l'assegnazione della sede, che dovrebbe essere ratificata dai singoli consigli comunali dell'ambito. Dispiace che questa diatriba che sia aperta dal 27 dicembre tocchi, poi finisca con l'incidere sui servizi essenziali che devono essere erogati ai territori, ai nostri territori, alle nostre comunità. E questa è la cosa più brutta e che dispiace di più. Poi tutta la questione, la vicenda giudiziaria, perché poi alla fine ci saranno oggetto nei vari gradi di giudizio, il TAR è a giorni, immagino il Consiglio di Stato, poi decideranno nel merito la bontà delle varie tesi sostenute. Però il dato è questo, che quando queste operazioni vengono fatte non con la concertazione, non con il dialogo, anche perché nel nostro territorio noi abbiamo solo questa possibilità, dialogare, cercare di fare rete, di fare squadra, cercare di essere uniti in un territorio già debole, già svantaggiato di suo. Quando invece poi si innesca questa guerra fratricida, che è una guerra fra i poveri, dico io, allora chi ne paga le conseguenze il territorio? Questa è una storia che non avrà né vinti né vincitori, ma avrà solamente un grande penalizzato che il nostro territorio e le persone che hanno bisogno di questi servizi. Questa purtroppo, sindaco, è una guerra dei poveri e anche sui poveri. È proprio questo, perché con questo atto scellerato, ritengo, si è interrotto un servizio che stava funzionando, solo per l'accaparrarsi e solo per una mera finalità, per avere, per accentrare o per portare, secondo equilibri di diversi, di politica, che a questo punto bisogna dirle con nome e cognome, che sono equilibri dettati solamente da scenari politici. E quando entra la politica in questo, come dicevo, chi ne paga le conseguenze è il territorio e sono i cittadini, poi le fasce più bisognose. Perché ricordo che l'ambito S7 ha avuto risultati eccellenti, riconosciuti dalla Regione Campania, quindi ha avuto risultati eccellenti e che aveva strutturato una rete di assistenza nel nostro territorio per tutti i 41 comuni dell'ambito di primo livello. Quindi, voglio dire, è un qualcosa, un meccanismo che si è voluto in maniera brutale interrompere solamente per freggiarsi di un qualcosa poi di effimero che oggi porterà chiaramente nelle discussioni che immagino non finiranno così a breve e logoreranno, finiranno con logorare i rapporti invece in un territorio dove c'è bisogno di grande coesione territoriale appunto. Ma non è il fatto che questi grossi centri dell'interno stanno perdendo servizi e quindi si cerca di accaparrarsi quanto più servizi possibili a danno dei paesi costieri. Non è che questo discorso si fa soltanto tra Vallo della Lucani e Castellabate, quindi Santa Maria, ma si fa anche tra Vallo ed Agropoli. Quindi è un discorso che trascende un poco da quella che è la natura prettamente politica. Certo, però io non ne farei un discorso di contrapposizione fascia costiera e parte interna del territorio. Io facevo riferimento alla coesione. Dobbiamo in un territorio difficile, un territorio svantaggiato come questo, avere questa capacità di stare insieme e di stare uniti indipendentemente dal numero di abitanti delle nostre comunità, dei nostri comuni, indipendentemente dalla loro posizione geografica, indipendentemente da tanti altri fattori che possono rendere svantaggiato più o meno un comune rispetto all'altro. Quindi la coesione territoriale è questa, indipendentemente da tutti questi elementi. Quindi questo era un equilibrio importante che da ben dieci anni si era riuscito a trovare e che stava dando dei risultati ottimi, eccellenti. Purtroppo, come ho detto, si è voluto con un colpo di mano buttare via tutta l'esperienza, tutto quello che si era fatto in questi anni e oggi si è arrivati alla situazione in cui siamo, in cui in questo territorio i servizi sono sospesi, c'è una carenza di servizi al territorio e qui questo è il frutto di quella scellerata decisione del 27 dicembre alla quale chi ha contribuito dovrà assumersene la responsabilità verso i cittadini di questo territorio. Dal 27 dicembre fino ad oggi, cioè, vi è stato un blocco, una paralisi, diciamo, di quelli che sono i servizi anche, quelli che una volta erano socioassistenziali, diciamo. Certo, perché oggi c'è bisogno di fare la programmazione e mentre il vecchio ambito, l'S7, continuava le proprie attività in continuità, usando, gestendo i fondi assegnati nella ripartizione precedente, adesso bisognerà ripartire con la ripartizione 2013-2015 che la Regione Campania ancora non ha erogato e quindi ovviamente non è una responsabilità di chi gestisce oggi e dell'S8 perché pure loro si trovano nella condizione di non avere di non avere le risorse perché la Regione Campania ancora non le ha attribuite e quindi in questo momento c'è un blocco che è dovuto proprio a questa fase transitoria, a questo transito. Quindi che cosa succede? Succede che noi rischiamo di duplicare i costi, di avere due strutture anziché una in un territorio e di tutto questo a discapito dei nostri cittadini. In questo momento, oggi siamo già ad aprile e quindi non riusciamo, in questo momento i servizi non riescono, non si riescono a erogare su questo territorio proprio per via di questa situazione. Cosa invece che in continuità, anche con un ritardo da parte della Regione Campania, come è successo negli altri anni, si sarebbe potuto comunque continuare a garantire una fase transitoria che la Regione stessa aveva dettato nelle norme, nelle circolari, aveva dettato e aveva indicato di predisporre, praticamente di esercitare in questa fase transitoria che doveva essere almeno il primo semestre del 2013. In una riunione del coordinamento, noi insieme agli altri sindaci, tutti quanti, abbiamo deciso di rivedere i costi della struttura e quindi di rivedere un poco tutti i costi di tutto il personale che agisce nel pieno di zone. Questo è un indirizzo che noi abbiamo dato proprio in ossequio al momento attuale e cercando di contenere, appunto per contenere i costi. Questa era una cosa che era già stata data come indirizzo e che si sarebbe comunque portata avanti perché era l'indirizzo e l'indicazione che veniva dal coordinamento e quindi da tutti quanti i sindaci. Mi auguro che non sia questo il motivo anche perché non risolverebbe le cose, perché un costo lo togliamo da una parte e lo mettiamo all'altra quindi non c'è nessun risparmio, sia chiaro. Però voglio dire in ossequio a quello che si era già stabilito si poteva approfondire, si poteva comunque incidere ancora di più in questa direzione e quindi mantenendo ancora ulteriormente i costi.